Quarto atto della serie di finale play-off del campionato di Serie C. Pala Orlandi ospita alle ore 21 di giovedì 6 giugno la sfida tra Vismedri, Costone Siena e Amen Scuola Baschettarezzo. Arbitri dell'incontro saranno i signori Mariotti di Cascine e Montalbetti di Empoli. Il successo maturato in trasferta domenica scorsa consente all'Amen di guidare la serie 2-1 recuperando il vantaggio del fattore campo dopo lo scivolone casalingo di gara 2. La squadra di Serravalli si è subito rigettata in palestra per preparare al meglio la sfida con la squadra senese che avrà certamente tanta voglia di riscatto davanti ai suoi sostenitori. La Vismedri cercherà in tutti i modi di mettere alle corde gli aretini per portare la serie a gara 5. Per questo motivo l'obiettivo principale dell'Amen sarà quello di non far prendere entusiasmo agli avversari in una gara che si giocherà oltre che sul piano tecnico anche su quello emotivo. Nella partita di domenica la chiave è stata l'attenzione difensiva che l'ha sbamesso in campo e che ha limitato i realizzatori senesi, arma che il quintetto aretino dovrà cercare di replicare anche nella prossima sfida appuntamento per il quarto capitolo della serie fissato per giovedì alle 21 al palazzetto Orlandi con Amen e Vismedri pronti a darsi battaglia come già accaduto nelle emozionanti prime tre sfide.